Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. In ogni puntata verrà ricordato il santo del giorno secondo il calendario liturgico veneziano. Quindi oggi invece iniziamo la puntata con la nostra rubrica Oggi avvenne. La puntata di oggi non è dedicata ad un giorno speciale ma ad un anno speciale, infatti quest'anno ricordiamo i 1600 anni di storia della città di Venezia, una città costruita su palafitte che grazie all'ingegno dei costruttori del tempo e con il perfezionarsi di una tecnica unica al mondo ha saputo ergersi e costruirsi come una delle città più belle del nostro pianeta. Dal 25 marzo ogni giorno ricorderemo fatti ed avvenimenti che ne hanno fatto di un arcipelago di piccole isole un luogo di splendori sia per i suoi palazzi e chiese sia per i tesori d'arte in esse contenuti. Dicevano di lei sorgerà radiosa come un'alba la perla dell'Adriatico, la nostra Venezia e sarà attraverso l'arte sapienziale di cento voci che hanno creduto in questo progetto che vi racconteremo la sua storia giorno dopo giorno e sarà una storia arricchita di contenuti ed approfondimenti. Oggi con noi Di professione guida abilitata della città di Venezia è stata presidente dell'Associazione Piazza San Marco. È degana della società di mutuo soccorso dei Carpentieri e Calafatti e tra gli altri incarichi ricopre il ruolo di vicepresidente dell'Associazione Piazza San Marco. Fa parte ormai da molti anni del comitato Festa della Senza. Per la rubrica Oggi con noi do il benvenuto a Caterina Sopradassi. Buongiorno Caterina e grazie per aver accolto il mio invito a partecipare a questa nostra trasmissione dedicata a Venezia. Allora, vogliamo fare con lei oggi un breve excursus storico su quelle che sono state le tappe principali che hanno sviluppato la storia di questa città. Forza Caterina, cosa ci racconta? Buongiorno a lei Fabio e grazie per l'invito. Quindi proviamo a fare questo excursus che non è facile perché 1100 anni di storia raccontare in pochi minuti è quasi un'impresa titanica. Comunque, anche se stiamo celebrando i 1600 anni della fondazione leggendaria della città che ricordiamo essere il 25 marzo del 421, noi sappiamo che esisteva una popolazione prima di questa data, ce lo raccontano storici importanti come Tito Livio, Virgilio, Marziale che ci raccontano di una società organizzata che viveva di ortaggi, di pesca, di caccia, dell'estrazione del sale e questa popolazione verrà raggiunta poi durante le invasioni barbariche da altre popolazioni che erano quelle che abitavano ad Aquileia, Concordia, Oderzo, Altino, Padova e si spostano verso la laguna da Caorle fino a Malamonco. Si formano tre grandi centri, quindi quello di Grado che sarà il centro religioso, Eraclea la prima sede politica di Venezia e poi Torcello che era il grande emporio commerciale. La tradizione vuole che all'epoca venisse eletto Paoluccio Anafesto nel 697, primo doge di Venezia che in realtà non è altro che un imperiale scelto con il benestare da Bisanzio. Quindi il primo doge che viene eletto e che inizia quella serie che andrà avanti fino alla fine della Repubblica è eletto nel 742 ed è Teodato Ipato che è quello che sposta la sede da Eraclea a Malamonco che poi sarà nuovamente spostata, dove oggi si erge Palazzo Ducale, nei primi anni del IX secolo. Il doge è Obelerio Antenoreo e sarà quello che vedrà l'arrivo dei Franchi, Pipino, il figlio di Carlo Magno che ci attacca. E la sede viene spostata proprio per ribadire l'indipendenza di questa società, di questa civiltà. Quindi Pipino può anche occupare Malamonco ma intanto noi ci siamo già spostati. Quindi questa è una tappa fondamentale e Fabio mi permetta di ricordare delle parole che vengono riportate da Giustina Regnier-Michiel nella sua Origine delle Feste Veneziane perché Pipino comunque entra in laguna, viene sconfitto, getterà in mare il suo scettro proprio come simbolo di resa e pronuncerà queste parole e siccome solo sopra di me è discesa l'ira di Dio così possa essa discendere sopra tutti coloro che ingiustamente nei secoli futuri venissero ad offenderlo. E' importante quindi questo passaggio proprio perché sempre la Regnier ci dice che da qui nasce la festa appunto della fondazione della città il 25 marzo che è il giorno dell'Annunziata, data comunque importante per tantissime altre civiltà. Quindi dicevamo nell'810 nasce il primo castello, la prima sede del governo veneziano nelle isole Realtina che brucerà nel 926 quando brucia anche la Basilica di San Marco perché ricordiamo che nell'828 le reliquie erano già arrivate a Venezia da Alessandria d'Egitto. Questi primi secoli sono importantissimi perché ci sono altre feste di cui io sono sicura se ne parlerà ampiamente nei futuri podcast cioè quella del 2 febbraio, la festa delle Marie, il giorno della purificazione di Maria e la festa dell'assenza di cui abbiamo appena accennato che poi verrà ampliata quando? Con il doce Sebastiano Ziani, dato importantissima, 1177. A Venezia arrivano il Papa Alessandro III e Federico Barbarossa, l'imperatore per firmare un trattato di pace ma sarà proprio il Papa a portare a Venezia tutta una serie di oggetti dall'anello, il cero benedetto, la spada, il seggio, l'ombrello e tutti quegli oggetti che vengono ancora utilizzati oggi durante la festa dell'assenza. Sebastiano Ziani porta avanti anche il restyling della piazza come un po' la conosciamo oggi quindi la darsena viene interrata ed ecco che nasce la piazzetta vengono issate le due colonne grazie a Nicolò Barattieri quelle che noi conosciamo come la colonna del Todaro cioè San Teodoro, il nostro primo santo protettore e quella del leone quindi il leone alato, il simbolo di San Marco si costruisce il cosiddetto palazzetto Ziani cioè quella base del palazzo ducale che verrà modificata nei secoli si interra il rio Batario quindi c'è tutta una ristrutturazione della piazza fondamentale c'è un passaggio che Fabio mi permetta di fare un po' la storica Sebastiano Ziani viene eletto da un numero ristretto di elettori 11 elettori scelti tra i nobili è un passaggio fondamentale perché il doge si trasforma in un rappresentante e non è più un sovrano quindi il popolo non può più partecipare passiamo già al 1200 1204 non possiamo non ricordare l'Enrico Dandolo questo grande personaggio che è il doge che porterà la grande vittoria della quarta crociata che però noi ricordiamo soprattutto forse per il bottino tutto quel meraviglioso bottino che ci porta reliquie, marmi, opere d'arti ma soprattutto i quattro cavalli ormai conosciuti nel mondo c'è un personaggio che nasce durante questo periodo Marco Polo nel 1254 io sono sicura che durante l'anno si parlerà anche di questo personaggio forse se ne parlerà anche tanto il quattordicesimo secolo è un secolo dove corriamo vari pericoli varie congiure quindi è un secolo molto tormentato da Baia Monte Tiepolo nel 1310 il Marine Fallier nel 1355 ma è un secolo in cui si lascia la conquista da Mar che è avvenuta nel secolo precedente e ci si sposta verso la conquista da terra lo sappiamo che il doge promotore di questa conquista è il Francesco Foscari forse lei si ricorda i Do Foscari sicuramente è l'opera verdiana sicuramente quella e grandi personaggi come il Gattamelata che ci portano conquiste arriviamo fino a Brescia, Bergamo a Chiara Dadda però non possiamo anche dimenticare che c'è una data fondamentale nel 1453 la caduta di Costantinopoli in mano turca quindi è una data fondamentale per tutto l'Occidente cristiano non solamente per Venezia Venezia che subisce delle grandi sconfitte vorrei ricordare quella a Zonchio perché il comandante lì è Antonio Grimani Antonio Grimani che verrà esiliato proprio per aver perso quella battaglia poi sarà perdonato per fortuna nostra sarà perdonato e diventerà doge perché proprio per riscattare quell'onta regalerà alla Repubblica regalerà alla Repubblica una meravigliosa collezione che oggi è la base del nostro museo archeologico però c'è una consolazione durante questo periodo l'acquisizione dell'isola di Cipro grazie a Caterina Cornaro e io sono sicura anche qui che grande spazio sarà dato alle donne durante tutto l'anno e tutti i post che verranno trasmessi nel Cinquecento nel Cinquecento anche qui abbiamo parecchie battaglie Venezia di nuovo rischia di essere soprafatta dalla Lega di Cambrai con il Papa Giulio II in testa ma nonostante queste difficoltà noi abbiamo lo splendore di Venezia che si esprima nel suo massimo la Renovatio Urbis è il secolo dei grandi artisti Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese come non ricordare per esempio nella stampa anche Aldo Manuzio quindi se da una parte ci sono delle grandi difficoltà dall'altra la città risplende nel suo massimo è anche ovviamente il secolo della battaglia di Lepanto 1571, il 7 ottobre se ne parlerà credo durante l'anno ma intanto ricordiamone la data siamo colpiti dalla peste 1575 non è la prima volta abbiamo già avuto quella del 1483 ma questa del 1575 tantissimi morti e alla fine per voto del Senato si costruisce la bellissima chiesa del Redentore grazie a Andrea Palladio il 600 poi il secolo buio di nuovo la peste nel 1630 e poi abbiamo però la costruzione della Basilica della Salute grazie all'architetto Baldassarre Longhena perdiamo Candia ma abbiamo un piccolo così momento di gloria con Francesco Morosini che riconquista la Morea ma diciamo che il 600 è un secolo di grandissima difficoltà arriviamo nel 700 è quello allegro è il secolo del Casanova è il secolo del Goldoni è il secolo di Vivaldi è il secolo di Tiepolo con i suoi bellissimi colori del Guardi del Canaletto e forse anche il secolo di Angelo Emo ultimo capitano generale da mare della Serenissima che ci porta anche lui delle vittorie purtroppo verso la fine del secolo come tutti sanno 1797 arriva Napoleone Bonaparte e abbiamo la caduta della Repubblica non rimaniamo molto sotto i francesi perché già ad ottobre con il trattato di Campoformio passiamo all'Austria poi nel 1806 ritorniamo sotto la Francia finché non c'è la caduta di Napoleone nel 1814 poi si ritorna sotto gli austriaci e nel 1866 come tutti sanno siamo uniti al Regno d'Italia mi permetta solo di ricordare un brevissimo momento di nuova indipendenza dal marzo del 1848 all'agosto del 1849 quando grazie all'insurrezione cappeggiata da Daniele Manin Venezia ritorna indipendente Caterina questo estratto è stato fantastico sicuramente ha dato un'illustrazione molto chiara e anche in certi momenti un po' dettagliata su quelli che sono stati gli step fondamentali della vita di questa Repubblica 1600 anni di storia che naturalmente non finiscono col 1866 ma che tratteremo sicuramente nelle prossime puntate anche vedendo un po' quello che è successo nel secolo scorso e quello che sta succedendo in questi anni vogliamo dare un suggerimento noi vogliamo sempre offrire ai nostri ascoltatori un volume un libro per chi volesse approfondire meglio il tema e l'argomento della puntata per cui oggi parliamo della Repubblica quale libro può suggerirci Caterina? io suggerirei Alvise Zorzi grande veneziano discendente da una famiglia di doji quindi Alvise Zorzi la Repubblica del Leone ci sono varie edizioni che sono reperibili nelle varie librerie ringraziamo ancora Caterina Sopradassi ricordo che lei è una guida autorizzata di Venezia per chiunque volesse venire a fare una visita nella nostra città può trovarla in internet può contattarla sicuramente lei è preparata sia in italiano che in altre lingue è vero Caterina? Quali altre lingue? lei sì io sono anche in inglese e in francese e in veneziano e in veneziano quindi grazie ancora a Caterina Sopradassi per il suo contributo per la sua partecipazione e buon proseguimento bene così siamo giunti al termine di questa puntata ringrazio tutti gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata di Buon Compleanno Venezia e ora vi lascio con il proverbio del giorno il proverbio di oggi è le meglio viver da aseno che morir da volte Buon Compleanno Venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città A presto a presto Grazie a tutti